Oh, scemo? Ah raga, anch'io c'ho il bazooka Tiè Vabbè ragazzi, basta, è finita Guardalo Stuff Bellissimo Peccato solo che non ho fatto double kill con quel colpo di smav Bene a tutti i compagni e bentornati con un nuovo video qua su Battlefield 4 Su PlayStation 4 Ci troviamo nella modalità conquista piccola in area legata Una delle mappe più caotiche insieme ad operazione prigione di questo titolo In questo video ho deciso di utilizzare la UMP45 Mamma mia che laser che è quest'arma Guardalo qua, buongiorno Buongiorno e double kill Aspetta, 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 dov'è? Eh sì, ciao, quello lì che cazzo la piglia? No eh, ma è una gi... What? Dai l'ho preso! Perché non è esploso? Salve Che spavendo E comunque ragazzi, mai una gioia Ho preso l'elicottero al volo e l'ho disattivato solamente Ma vaffan... Oh cavolo quanta gente c'è Boni, 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 boni Io sto anche finendo le munizioni Porca miseria, ladra Zio ce n'è uno lì Ragazzo ce n'è uno lì E qua ce n'è uno qua da me Preso... No ma dai, assistenza, come? Ho finito i colpi Cavolo ho finito i colpi No, 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 no Pace, 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 pace E poi dicono che su Battlefield 5 non ci stanno tanti colpi Ma dove cavolo eri tu, scusa? Ah, faceva il bodyguard alla porta, capito Occhio E mori Che cavolo Grazie per la mano Ce l'ho dentro qua Preso L'altro non lo vedo È troppo buio qua dentro Posso dire che la grafica di Battlefield 4 È invecchiata un po' male Oh zio Ma ce n'era uno lì disteso Mi sei passato tanti, non lo vedi? Ma un paio di occhiali Te li ricompriamo, adesso vuoi Sono in dotazione Dai, conquistiamo l'altazione Attenti dietro Ragazzi, vogliamo usare gli occhi? Per favore, siete qua in 800? Oh 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 No, no, perché? Ma perché devi sparare a me? Sono in 800 qui Ma perché tutti i veicoli devono sparare a me? Cosa c'ho? Un insegno luminoso sopra la testa Spiegatemi Salve Buongiorno Ragazzi, è libero a B? Dai, dai Aioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Spavento Non mi ricordavo che ci fosse il ponte Lo ammetto che mi sono un po' cagato in mano E che cavolo però Stire spawn gioco Guardalo là Mamma mia Addios Ma va a fare un bagno te Non rompermi le palle Mi dai ste munizioni tu Aia Guardalo dove sono Dai che mi fate finire i colpi Ma porca miseria E mo Oh oh One shot baby Eh ragazzi lo so che c'è gente Ma con che cazzo gli sparo con l'RPG L'unica cosa che posso fare Tiè L'ho preso con lo smuff E scusami Non c'evo colpi da spararti Amico mio Uno vorrebbe spararti con armi tradizionali Ma la gente non mi dà le munizioni Che comunque passano gli anni Ma la gente che ha imparato sui tetti di area legata Sempre eh Tobi anche di questo No Vabbè No vabbè ragazzi No vabbè Faze Faze Fnatic Chiamatemi Vi cecchino i camper Pure con lo smuff E andiamo pure a vincere Mamma mia Troppo forti 30 kill e 5 morti Davvero niente male come risultato Anche se la kill dello smuff Sul camper sul palazzo Vale tutto il video Ok ragazzi Riacci un'altra partita Ci troviamo sul resort di Aynan Una mappa molto tropicale Che ben si addice Al periodo in cui siamo Ovvero estate Qua c'è gente di fronte Allora Parca misera Vogliamo morire o no Oh che cavolo Non moriamo più questi Arato male Ti ho sentito E vedo una barca qua di fronte a noi Ragazzi Eccolo qua Buongiorno Oh no L'elicottero Tiè Ma è una gioia Ah ti hanno preso Stronzo Oh Scusa Scusa Bellissimo Peccato solo Peccato solo che non ho fatto Double kill Con quel colpo di smuff Oh Scemo Ma raga Anch'io c'ho Il bazooka Tiè Vabbè ragazzi Basta È finita Riesco a prenderlo al volo Solo con lo smuff Riuscirai a prendere il volo Vero Oh l'ho preso Mamma mia Assess 14 Incredibile Ragazzi sono un mostro con lo smuff Chiamatemi sniper mav Oh oh Gente Preso E lì c'è l'altro Dai però Morici Ma porca Ma porca Oddio L'elicottero L'elicottero Presi Ok Ho finito pure i colpi Mamma orca Salve Lei cosa ci fa Le disteso Oio Che dolore No che sfiga Era nell'angolino Ma questo mi dà l'occasione Di rifornirmi di bazooka Pronti A cecchinare altre persone Guardatelo Cecchino là Lo prenderò Non lo prenderò Sì No Boh Forse Quasi Oh chi è Ragazzi ne abbiamo uno Sopra il tetto Preso Ma qua c'è un altro Ma no Ma dai Ma sta buono Sta buono Double kill Di magnum E poi c'è gente che dice Che la revolver Di battlefield 5 Ma ci vuoi morire Quanti colpi Oh Anche te Oh Double kill Ah ragazzi C'è uno lì Guarda che Ti ammazzo prima io Ma ce l'avete sotto Oh Che cavolo E ho finito di nuovo i colpi Ma dai Eccolo L'ho visto Vai Veicolo Veicolo Disattivato Dai Veicolo Distrutto Boom baby Oh c'è un cecchino Oh Che 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 Ma lasciami stare Un attimino Che ho andato a uccidere Un cecchino Eccolo Preso Yes Ah c'è un altro Oh Grazie little bird Mi ha salvato il culo Ma sta già finendo la partita No Dai Mi sto divertendo Vabbè sono comunque contento di questa vittoria Abbiamo concluso questa partita con 20 uccisioni e 4 morti Ma anche qui ragazzi solo le kill dello smav valgono tutto il video Detto questo ragazzi vi definisce qua Spero che vi sia piaciuto In tal caso fatemelo sapere con un bel mi piace ed un commento Scrivendomi un voto per le cecchinate con lo smav E dicendomi se vorreste altri video su questo battlefield Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete passati dal mio profilo di instagram Che trovate qui sotto in descrizione Come troverete anche il modulo per potermi inviare le vostre clip divertenti Per partecipare alla nuova serie del canale Io vi ringrazio per avermi seguito E noi ci vediamo con un prossimo video Sempre by Bad Company Italy E noi ci vediamo con un prossimo video